ben trovati all'oroscopo del giorno lunedì 22 marzo si festeggia santa lea ariete vi sentirete alquanto inquieti e scontenti nel corso della settimana un pochino anche per la vostra mania di pretendere sempre tutto e subito ebbene ora dovrete imparare ad attendere che le situazioni si sblocchino cercando di mantenere la calma toro il vostro bisogno di tranquillità sarà un po messo alla prova oggi non sempre le cose andranno come avevate prestabilito dovreste quindi diventare più elastici ed accettare i contrattempi che vi si presenteranno attenzione all'alimentazione che potrebbe essere alquanto disordinata gemelli nel corso della giornata risulteranno privilegiati tutti i rapporti sociali il settore delle amicizie e delle nuove conoscenze sarà posto sotto i migliori auspici vi sentirete particolarmente sicuri di voi e brillanti e riuscirete ad avere il dominio su tutto ma dovrete sapere osare cancro giornata nel corso della quale riuscirete a ritrovare una perfetta intesa sessuale e sentimentale non vi mancheranno neppure alcuni momenti di paturnie dei quali sarete gli unici responsabili buona la forma fisica anche se dovreste camminare di più leone vi sentirete molto sicuri di voi e dotati di una buona dose di equilibrio ci potrebbe essere la possibilità di partecipare ad un viaggio interessante tutto vi risulterà particolarmente facile e vi guadagnerete la stima di persone influenti frenate l'esuberanza potreste limitare qualcun altro vergine vi sentirete ricchi di stimoli e di nuovi progetti riceverete molti inviti a partecipare a spettacoli di vario genere ci sarà nel corso della settimana un allargamento della vostra cerchia di amicizie godrete di ogni tipo di mondanità non siate però superficiali bilancia settimana all'insegna della stabilità per coloro che hanno appena iniziato un rapporto d'amore oggi ci sono ottime probabilità che diventi un legame profondissimo coloro che preferiranno svolanzare di fiore in fiore avranno sicuramente l'occasione di nuove conoscenze scorpione la giornata potrebbe essere tranquilla per voi ma il vostro modo di viverla sarà soggetto a sbalzi d'umore vi farebbe molto bene apprendere qualche nuova tecnica di rilassamento non contate comunque sull'appoggio degli altri solo sulle vostre energie sagittario tutto bene per gli amici di questo segno l'unico neo sarà un'eccessiva ingenuità nei confronti degli altri ma saprete comunque uscire da ogni situazione a testa alta e con il sorriso sulle labbra tanto da fare invidia a chi vi guarda occhio alla dieta dovete assolutamente fare più moto capricorno siete sempre al centro dell'attenzione di due pianeti che ogni tanto provocano un po di scompiglio nella vostra vita la settimana globalmente sarà comunque per voi tranquilla e senza problemi particolari si può proprio dire che è fatta su misura per voi approfittatene acquario la giornata prevede molte occasioni di riuscita vi sentirete molto tolleranti verso gli altri e disponibili ad ascoltarli sentirete comunque che anche dentro voi qualcosa sta cambiando in meglio siate più riflessivi e vivete con maggiori distacco tutte le cose pesci la settimana non vi vedrà particolarmente in forma da oggi sarete piuttosto nervosetti e alquanto insofferenti a tutto e a tutti sentirete la voglia di nuovi amori ma poi vi mancherà il desiderio di cercarli e nel lavoro la monotonia si farà pesante quasi ossessiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie